Se c'è una cosa che proprio non riusciamo a sopportare è di tornare a casa dopo un servizio fotografico e scoprire che le nostre immagini sono inesorabilmente piene di rumore. Questo è dovuto al fatto che probabilmente c'era poca luce e probabilmente abbiamo scattato con valori ISO molto alti. Nel corso del video di oggi vado a darvi qualche trucchetto per cercare di minimizzare la presenza di rumore nelle nostre immagini. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia in particolare per le aziende e mi capita da tanti anni di trovarmi a dover fronteggiare delle condizioni di illuminazione non proprio ottimali. Nel corso di questo video vado a raccontarvi quelli che sono fondamentalmente 5 piccoli trucchetti che ho scoperto funzionano molto bene per cercare di minimizzare il rumore nelle nostre fotografie. Fermo restando ovviamente che una certa quantità di rumore ci sarà quasi sempre in tutte le fotografie e nella maggior parte dei casi la cosa è tranquillamente tollerabile. Quindi il rumore non è necessariamente il male supremo, però cerchiamo comunque di averne meno che possiamo e di averlo il più naturale possibile. Prima di cominciare vi invito come sempre a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. In questa maniera non solo imparate qualcosa ma rimanete anche aggiornati sul mondo della fotografia e del videomaking. Se vi sentite generosi lasciate pure un like sulla fiducia a questo contenuto e ora andiamo a incominciare. Il mio primo consiglio per cercare di minimizzare il disturbo digitale, quindi il rumore digitale, il digital noise nelle nostre immagini, la primissima cosa che io penso quando voglio andare a ridurre questo effetto è di utilizzare un'apertura molto ampia. Che cosa significa questo? I nostri obiettivi hanno un determinato diametro e al loro interno hanno un diaframma che si allarga e si restringe. A seconda di come noi lo impostiamo. Ora nel momento in cui vogliamo cercare di minimizzare il rumore ovviamente impostiamo il diaframma massimo possibile. In questa maniera facciamo entrare più luce e potremo quindi diminuire i valori ISO di conseguenza. Per fare questo potrebbe essere necessario utilizzare delle lenti cosiddette veloci o lenti luminose, ognuno le chiama come vuole. Di che cosa si tratta? Dovete sapere che i produttori costruiscono delle lenti top di gamma che di solito hanno un'apertura più ampia, perché essendo più luminose performano meglio anche con meno luce e quindi vengono considerate più pregiate. Producono anche delle ottiche più economiche, che quindi sono adatte a venire incontro alle esigenze di una molteplicità di utenti che magari non hanno tutti quei soldi da investire. Solitamente le ottiche economiche hanno un'apertura più piccola e quindi lasciano entrare meno luce. Ovviamente va da sé che se abbiamo speso più soldi avremo un'ottica più performante con un'apertura maggiore e quindi potremo fare le nostre fotografie nelle stesse condizioni con dei valori ISO più bassi perché abbiamo più luce che entra naturalmente attraverso il nostro obiettivo. Ovviamente queste sono scelte e sono compromessi. Mi rendo conto che non tutti possono comprare le ottiche top di gamma. Cercate quantomeno di focalizzarvi magari su delle ottiche di tipo prime, quindi delle ottiche senza zoom che quindi non avendo la versatilità dello zoom però ci consentono di avere più luce perché sono delle ottiche più semplici. Parlo per esempio del 50 mm 1.8 o ci sono dei 24 mm 2.8, insomma cerchiamo di stare, di non andare mai sopra il 2.8. Delle ottiche da f3.5 o da f4 non sono ottiche veloci e difficilmente ci daranno dei buoni risultati quando scattiamo con poca luce. Al contrario delle ottiche da 1.8, 1.4, 1.2 o addirittura 0.9, mi sembra che ci sia qualcuno che ha fatto questa follia di fare un'ottica con un'apertura di 0.9, sono delle ottiche che performeranno molto meglio quando c'è poca luce perché avendo naturalmente un diametro più grande, proprio per costruzione, sono più ampie e quindi ci permettono un'illuminazione più consistente, ci permettono di abbassare i valori ISO, quindi andiamo a lavorare meglio. Per il secondo consiglio invece ci andiamo a focalizzare su un tipo di sensore ben preciso e quindi ci andiamo purtroppo a focalizzare sul sensore di tipo full frame. Come qualcuno di voi già saprà esistono tanti tipi di sensori, esiste il full frame, esiste la PSC, esiste il micro 4 terzi e poi ce ne sono anche tanti altri senza andare a tirare in ballo Hasselblad. Io consiglio il sensore full frame perché lo trovo il compromesso migliore, nel senso che sensori più importanti del full frame hanno anche costi di conseguenza più importanti. Sensori più piccoli del full frame avranno probabilmente, ma non sempre, avranno in certi casi dei costi più ridotti, però nella maggior parte dei casi la fisica gli gioca contro, nel senso che essendo sensori di dimensioni più ridotte, che però ultimamente vengono costipati di megapixel, quindi abbiamo un sensore più piccolo dove però gli mettono su 40 megapixel anche lì, quindi un sensore piccolo, densissimo, farà sempre fatica quando c'è poca luce. Quindi nel momento in cui andiamo a dotarci di un micro 4 terzi o di un APS-C, automaticamente la macchina fa più fatica. Poi la tecnologia fa passi da giganti, per cui per esempio io sto girando con un sensore APS-C, sono ISO 800, non c'è il minimo rumore, ma è veramente un'immagine di una pulizia stellare, perché è una macchina moderna e quindi la tecnologia ci viene incontro e ci permette di lavorare anche ad alti ISO, anche con sensori più piccoli del full frame, però diciamo che a parità di condizioni e magari a parità di prezzo un full frame avrebbe fatto meno fatica a ottenere esattamente la stessa pulizia e magari avrebbe potuto spingere ulteriormente un pochino di più con gli ISO senza avere una caduta qualitativa così consistente. Quindi ovviamente è una differenza lieve, ma è una differenza che esiste, quindi un sensore full frame continua ad avere un vantaggio fisico, costruttivo proprio sul sensore più piccolo. Procediamo con qualcos'altro che ha a che fare questa volta con i parametri di scatto. Ora abbiamo detto che dobbiamo usare il diaframma più ampio possibile, posto che vada bene ovviamente, perché se stiamo facendo ritratto magari ci va bene usare un'apertura molto ampia, ma se stiamo facendo fotografia di interni l'ideale sarebbe scattare a f8, quindi chiuderlo il diaframma. Ed ecco che dobbiamo andare a lavorare sui tempi. Ovviamente se stiamo facendo fotografia di interni a f8, lì non ci sono cavoli. Per tenere gli ISO bassi dobbiamo usare il treppiede perché dobbiamo utilizzare un tempo di posa lungo, che magari sarà sui 5-6 secondi, magari anche 10. Quindi con un'apertura di f8, treppiede, il tempo lo gestiamo come vogliamo, 5 secondi di posa e siamo a posto. Nel momento però in cui scattiamo a mano libera, ecco che dobbiamo farci dei conti per quanto riguarda i tempi e dovrei aver pubblicato di recente un video che parla proprio dei tempi di scatto, quindi andatevelo a recuperare. Uscirà o prima o dopo di questo video, non me lo ricordo, però in qualunque momento guardiate questo video probabilmente sarà già uscito un video che parla specificamente dei tempi in fotografia. I tempi sono molto importanti perché a seconda del tempo che impostiamo possiamo avere una foto mossa, se impostiamo un tempo troppo lungo la nostra mano non è abbastanza ferma da tenere la posa ferma e quindi avremo una foto micro mossa o anche completamente mossa e quindi dobbiamo andare a diminuire i tempi di posa. Diminuire i tempi di posa vuol dire fare entrare meno luce perché il tempo che il sensore ha per catturare la luce è inferiore. Ora, quando noi stiamo scattando in una condizione di luminosità non proprio favorevole, andare a diminuire troppo i tempi di posa ci gioca contro. Quindi lì dobbiamo essere veramente molto bravi a capire qual è il tempo giusto per catturare la fotografia così come serve a noi. Per esempio in una foto di interno il tempo può anche essere 6 minuti. Io posso fare 6 minuti di posa in una fotografia di interno, tanto è tutto fermo, niente si muove, quindi che la posa duri un centoventicinquesimo o 6 minuti non cambia niente. Io posso prendermi tutto il tempo che voglio per fare una cosa che non si muove. Viceversa per fare una persona che si muove dovrò andare su un duecentesimo, un cinquecentesimo di secondo. Ecco però che se io sto facendo una persona che si muove, quindi magari uno che sta parlando in pubblico, quindi sto facendo delle foto a un evento con uno che parla in pubblico, se io gli sto facendo delle foto e sto scattando a un quattromillesimo di secondo, lì è troppo rapido quel tempo, sto tagliando fuori tantissima luce, un cinquecentesimo è più che sufficiente. Quindi questo è il terzo consiglio. Nel momento in cui scattiamo qualcosa, cerchiamo di capire qual è il tempo giusto e non diminuiamo troppo i tempi perché stiamo riducendo di troppo la luce che lasciamo entrare a colpire il nostro sensore e quindi di conseguenza dovremo alzare gli ISO o scattare col diavramma sbagliato. Quindi cerchiamo di bilanciare questi parametri. Siamo al quarto consiglio, sembrerà banale ma aggiungiamo luce. Nel momento in cui non siamo in grado di scattare perché la nostra strumentazione fotografica non ci consente uno scatto pulito, aggiungiamo delle luci. Ora, le luci che ho aggiunto io qui sono, passatemi il termine, sono quasi più decorative che non per un'esigenza vera di illuminazione. Io potrei lasciare le veneziane aperte, apro la finestra e mi arriva tutta la luce che voglio se giro di giorno. Però utilizzare una luce artificiale mi dà due vantaggi. Il primo è che posso fare quello che voglio. Il secondo è che posso fare quello che voglio quando voglio e posso girare con esattamente le stesse luci sia di giorno che di notte. Se io stessi girando questo video di giorno o di notte a voi non cambierebbe niente, non avreste nemmeno modo di rendervene conto. Dovreste andare a vedere l'ora che segno per capire a che ora l'ho girato. Perché dall'illuminazione non c'è nessun indizio dell'orario del giorno in cui io sto facendo i miei contenuti. Infatti ogni tanto li faccio di mattina, ogni tanto li faccio in piena notte e a voi non cambia niente perché la luce è artificiale ed è sempre questa. Nel momento in cui io girassi senza queste luci di notte la ripresa farebbe schifo. Ci sarebbe pochissima luce, non avrei più la luce naturale quindi dovrei girare a ISO 6400, sarebbe una porcheria. Quindi nel momento in cui siamo in difficoltà aggiungiamo illuminazione, aggiungiamo luci. Non è disdicevole ragazzi, io sento tante persone dire io scatto solo con luce naturale che va anche bene, può essere una cifra stilistica. Uno dice io lavoro solo con luce naturale, ok. Però stai perdendo tutti i clienti che ti chiedono di lavorare di notte per esempio. Stai perdendo tutti i clienti che vogliono una qualità di un certo tipo anche in una condizione poco illuminata perché se ti porti delle luci supplementari se sai come usarle puoi prendere anche quei clienti o fare anche quei lavori se lo fai per te stesso, per arte, per hobby o quant'altro. Se invece non lo sai fare automaticamente stai dicendo a chiunque voglia lavorare con te guarda io lavoro solo di giorno. E quindi di notte non si può fare quasi più niente ed è un peccato. Aggiungere delle luci oltre a essere una freccia in più nella nostra faretra perché comunque ci permette di fare cose che con la luce naturale non possiamo fare è un arricchimento anche personale perché impariamo a lavorare in altri modi poi possiamo decidere se lavorare con luce naturale oppure no però almeno conosciamo entrambi i mondi non ci limitiamo a dire io lavoro solo con la naturale. È un peccato secondo me limitarsi. Molto bene ma siamo arrivati alla fine e quindi all'ultimo e quinto consiglio per andare a ridurre il rumore nelle nostre immagini fino a che abbiamo visto degli accorgimenti proprio per tagliare il rumore sul nascere. Ci mettiamo in condizione tale che quando scattiamo non ce ne sia di rumore o ce ne sia comunque di meno perché abbiamo fatto le cose con la testa pensandoci. Adesso però è il momento di andare a prendere qualche piccolo accorgimento che lavora sul versante della post produzione. Quindi ci sono due cose che possiamo fare molto molto importanti. La prima cosa possiamo andare a impostare la riduzione del rumore direttamente in macchina. Questo funziona se stiamo scattando in JPEG quindi nel momento in cui noi scattiamo in JPEG andiamo a oltre a impostare il profilo colore sRGB a impostare la qualità massima sul nostro JPEG o la qualità che ci serve se è per quello. Per me è la massima ma insomma ognuno fa quello che vuole. Andiamo a impostare i parametri del nostro JPEG e gli andiamo ad applicare un profilo colore direttamente in macchina e queste sono cose che si fanno abitualmente sul JPEG e gli andiamo a mettere anche la riduzione del rumore in macchina perché esiste e l'ho provato di recente e devo dire che i risultati che mi restituisce sono molto buoni. Ora ovviamente non userei mai un accorgimento come questo se stessi facendo fotografia fine art se sto facendo un tramonto spettacolare voglio tutte le informazioni per potermela post produrre come voglio io per poterla pastrugnare bene ma se sto facendo foto di un evento un evento corporate per un'azienda che devo fotografare i dirigenti mentre bevono il prosecco lì non me ne frega niente di andare a post produrre faccio un JPEG, viene come viene viene giusto perché io lavoro bene quindi vengono tutti giusti però imposto il JPEG e metto la riduzione del rumore direttamente in macchina così ho i file già finiti non devo più toccarli post produrli sono già pronti così e quella riduzione del rumore fa il suo porco lavoro perché comunque funziona bene l'altra cosa che possiamo fare anche questa sempre a cascata è sempre meno poetico possiamo andare a sopprimere il rumore in post produzione ora esistono tanti sistemi per farlo secondo me il più efficace è andare nel modulo di sviluppo di Camera Raw, Lightroom o altro software che dir si voglia Capture One hai il programma gratuito di Canon che si chiama Canon Photo Professional se ricordo bene hanno tutti più o meno gli stessi algoritmi gli stessi parametri e noi possiamo andare a ridurre il rumore digitale in una fotografia a questo punto lavoriamo sul RAW ovviamente perché se lo facciamo sul JPEG viene fuori un pasticcio se lo facciamo sul RAW ci dà anche buoni risultati la vera novità è che in questo caso è arrivata l'intelligenza artificiale che ci permette l'hanno integrata di recente anche nell'ultima versione di Lightroom che però io non ho neanche installato perché non lo sto più usando Lightroom uso solo Camera Raw nelle ultime versioni c'è proprio l'intelligenza artificiale integrata che ci permette di sopprimere tantissimo il rumore nelle nostre foto con uno sforzo minimo perché ci pensa lui fa da solo ovviamente non dobbiamo abusare di questa tecnologia i consigli che vi ho dato prima sono più importanti perché un lavoro fatto bene alla radice non avrà bisogno di tutta questa processazione sarà pronto da consegnare subito e avremo lavorato nel modo migliore e saremo più contenti di noi stessi e il cliente finale se ne accorge ragazzi di questa cosa non saprà dire che cosa ma si accorgerà che c'è qualcosa di fatto bene se abbiamo lavorato bene tempi di consegna più rapidi banalmente perché guardate che è bellissima l'intelligenza artificiale ho sentito molti dire ah è bellissimo ci mette soltanto 20 secondi a foto sì quanto ci mette se le foto sono 3000 però a processarle tutte per togliergli il rumore capite bene che fare il ragionamento e dire tanto le sistemo dopo può essere pesante può essere pesante perché vi tiene occupato il computer per 8 ore dopo 8 ore di processazione in cui vi deve togliere il rumore a tutte le foto e si poteva evitare se solo nel tempo dello shooting aveste fatto le cose fatte bene quindi si tratta di tenere il computer immobilizzato a casa e non poter fare altri lavori per 8 ore oppure nel tempo dello shooting io magari ho 3 ore di shooting in quelle 3 ore non è che diventano 4 in quelle 3 ore che sono sempre 3 ore se io imposto meglio i parametri se io me la gioco bene scelgo l'ottica giusta attacco due lucette in più ci ho messo comunque 3 ore ma le foto sono già pronte e mi evito magari altre 3 ore di post produzione a casa secondo me questa cosa è assolutamente fondamentale ma adesso sono impaziente di sentire il vostro parere per cui vi chiedo di lasciarmi un commento qui sotto vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto perché io spesso rispondo con dei contenuti verticali quindi se vi iscrivete poi non rischiate di perdervi le mie risposte signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento